La promessa continua a regalare ai telespettatori scene e momenti unici La soap spagnola non smette di appassionare milioni di persone, un racconto in grado di incollarti al piccolo schermo Cosa succederà tra Pia e Cruz? Sono ormai mesi che la promessa va in onda su Canale 5 e i telespettatori non perdono un appuntamento I protagonisti della tenuta più seguita di sempre sono riusciti ad entrare nel cuore e nelle case degli italiani Al centro del racconto un'appassionante storia d'amore, quella tra Iana e Manuel I due hanno fatto sognare i fan con un sentimento ricco di molteplici sfumature Quello che conquista in modo decisamente convincente è legato all'impossibilità dei due di poter stare insieme Il pubblico si sa, è appassionato al dramma e alle vicende tormentate Tutto questo è presente all'interno di ogni puntata della promessa Non sono solo loro ad ogni modo ad attirare l'attenzione dei fan, tutti i protagonisti della soap spagnola riescono ad attirare con le loro storie, intrecciate e molto articolate La promessa, Pia e Cruz faccia a faccia Cosa succederà di sconvolgente? Questo è un momento molto importante per la storia Siamo ormai giunti alla fase in cui i protagonisti sono pronti a prendere decisioni importanti e a fare valutazioni necessarie per il bene delle varie storie Ma Iana e Manuel riusciranno ad essere felici insieme? Molteplici alti e bassi hanno travolto la loro storia C'è ad ogni modo un ostacolo ad essere protagonista in questo amore, stiamo parlando di Jimena Quest'ultima non riesce proprio a rassegnarsi, l'amore per Manuel è troppo forte e la voglia di averlo tutto per se non le lascia pace Jimena le ha provate davvero tutte, allontanare Iana dagli occhi e dal cuore del suo amato è quanto desiderato, questo però è più difficile del previsto Ma arriviamo al dunque, cosa succederà nella puntata di domani? Al centro delle dinamiche un confronto accesissimo tra Cruz e Pia Le due donne si ritroveranno a dover affrontare un faccia a faccia molto complicato Cruz capirà che la sua nemica è questa volta fa sul serio, per questo motivo dovrà cedere ai suoi ricatti ma ad una condizione Pia dovrà tornare alla tenuta, ma sarà pronta ad avere di nuovo al suo fianco la donna che alimenta la sua tensione? Sono ancora tantissimi i colpi di scena che coinvolgeranno i nostri amati protagonisti Il pubblico non attende altro che scoprire se la coppia tanto seguita riuscirà a godere di un romantico lieto fine In caso contrario, siamo pronti ad accettare la separazione definitiva tra Iana e Manuel? Per scoprire cosa succederà non perdetevi l'appuntamento quotidiano con la SOP Spagnola